A distanza di oltre sei anni è tornato finalmente operativo il centro di raccolta rifiuti comunale sito nella zona autoporta Roseto degli Abruzzi, un centro che negli anni ha vissuto una lunga cherelle gale iniziata con il sequestro dell'area da parte della Guardia di Finanza, avvenuta nel luglio 2017 per fondo e recinzioni non conformi e dissequestrata circa un anno fa. Dal suo dissequestro c'è voluto circa un anno per riqualificare l'area e renderla nuovamente operativa. Ho ringraziato anche i sindaci che mi hanno preceduto per chi l'ha avviato il sindaco Pavone e chi ne ha subito un po' la chiusura il sindaco di Girolamo ma poi con la mia maggioranza siamo riusciti a lavorare per superare dopo il dissequestro tutti i limiti burocratici, gli adempimenti e anche la sinergia con la Diodore Ecologia e con il direttore esecutivo del contratto che ha seguito l'apertura e che ringrazio con tutto il secondo settore. Un servizio importante per i cittadini, un servizio che da oggi in qualche modo potrà dare delle risposte sia per quanto riguarda i bisogni dei cittadini ma anche un disincentivo a quelli abbandoni sul territorio che tanto fanno male alla città ma anche ai loro abitanti che ovviamente qui un messaggio soprattutto alle persone corrette che dovranno continuare a denunciare ciò che non va perché noi da oggi dobbiamo dare un cambio di marcia. Ovviamente le cose facili non esistono, erano qualcosa di importante su cui lavorare quindi il gran lavoro, la grande determinazione e soprattutto l'averlo detto e farlo oggi penso che sia un merito di questa amministrazione. È tornato dunque operativo il centro di raccolta dove i cittadini potranno conferire diversi rifiuti tra i quali le potature e gli ingombranti a gestire il centro della Diodore Ecologia che già si occupa dal 2012 di raccolta rifiuti nel territorio comunale di Roseto. I cittadini presentando un documento di identità, la tessera sanitaria e l'iscrizione al ruolo per l'Atari potranno conferire i propri rifiuti il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14 e il lunedì e giovedì dalle 13 alle 19. Questo è un momento molto importante perché contribuirà a far sì che le liste lunghissime che si sono create negli anni di raccolta domiciliare vadano a snellirsi e quindi anche i cittadini saranno più rilassati sotto questo punto di vista e poi anche ad aiutare il comune di Roseto degli Abruzzi a progredire nella raccolta differenziata perché ormai il centro di raccolta in ogni paese e città è necessario soprattutto perché i rifiuti purtroppo non diminuiscono ma aumentano.